Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Come state? Come va? E state festeggiando? State mangiando in compagnia in questo giorno? Questo giorno in cui si sta a casa, ci si riposa un pochino queste vacanze pasquali? Spero di sì, spero per voi e spero anche di allietarvi con questa puntata. Oggi noi parliamo di radioastronomia, che è lo studio delle onde elettromagnetiche che potremmo dire in un certo senso dalla parte opposta a quella puntata sui raggi X. Sempre di luce parliamo, alla fine l'astrofisica è lo studio della luce che proviene dallo spazio. Poi sì, ok, se volessimo romanzarla potremmo dire lo studio dell'universo e delle sue caratteristiche, ma volendo essere anche abbastanza sconsecranti, l'astrofisica è Oh, guarda, il monitor ha fatto un bip che non ci aspettavamo. In particolare, la radiazione elettromagnetica studiata da questa branca dell'astronomia guarda le lunghezze d'onda che vanno dai 10-20 metri circa a qualche centimetro di lunghezza. La bellezza di queste onde è che possiamo registrarle, quindi studiare le sorgenti direttamente da terra. Infatti la nostra atmosfera, che nei raggi X ci causa così tanti problemi, rendendo impossibile lo studio da terra delle onde, nelle onde radio diventa quasi trasparente, permettendo a tutte queste informazioni di raggiungerci, anche se vedremo che non è proprio così. Ed è anche per questo che infatti ha portato lo sviluppo della radioastronomia prima dei raggi X, tutto ovviamente dietro l'astronomia ottica, anche per facilitare i costi soprattutto, perché è stata la prima, anche perché esci in giardino come Messie, come Ipparco, e ti metti a registrare gli oggetti, quindi ti serve giusto il calamaio, ti servono gli occhi, se hai bisogno di occhiali allora aspetti un pochino, tipo 1800, e poi con gli occhiali riesci a vedere anche il cielo, però sì, diciamo che questa è stata la prima. Però io vi ho già spoilerato praticamente tutto, facciamo che adesso sigla e poi cominciamo con la storia della radioastronomia. Allora, l'inizio dell'astronomia alle onde radio, e la prima detection di onde radio risale al 1933, fatta da Karl Jansky. Prima di lui, in realtà, c'era già una storia di speculazioni e ricerche che da anni andavano avanti, e la colpa la facciamo risalire a uno dei più grandi scienziati del 1800, ovvero Maxwell, l'uomo diventato famoso per quattro equazioni che hanno cambiato la nostra concezione di onde elettromagnetiche, di elettricità e magnetismo, che prima erano materie separate, poi appunto riunite sotto un unico effetto, ovvero l'elettromagnetismo. Una delle intuizioni di Maxwell è che le onde elettromagnetiche possono propagarsi nel vuoto, alla velocità della luce, e sono una mistura di interazione tra campo elettrico e campo magnetico, che viaggiano assieme, e soprattutto si propagano come onde. Una delle caratteristiche che noi fisici amiamo è la lunghezza d'onda, che caratterizza quasi tutto, ovvero quanta energia trasporta e con cosa posso detectarla. Quindi, sapendo la lunghezza d'onda, sappiamo praticamente tutto di quello che ci interessa, di quella radiazione che stiamo andando a osservare. Diciamo che già in realtà nel 1800, sapendo che il Sole emette luce e che questa è un'onda elettromagnetica, si ipotizza possa emettere pure a energia minore, come appunto nelle onde radio. Quindi si comincia a costruire i primi grezzi radiotelescopi e vedere se arriva qualcosa. Però il primo a misurare effettivamente qualcosa nelle onde radio fu, come abbiamo detto appunto, Karl Jansky, a cui poi venne dato il nome dell'unità di misura del flusso, ed è la densità di flusso elettromagnetico in radioastronomia, che in effetti sta diventando un po' come l'America, ovvero si fanno le loro unità di misura che poi noi studenti dobbiamo trasformare nel sistema internazionale, perdici su tabelle di qua, andiamo in Erg, trasformiamo in Jansky, vadiamo, prendiamo, facciamo, cioè, potrebbe essere tutto molto comodo utilizzare un'unità di misura, no, 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 utilizziamo i Jansky in radioastronomia, va bene, ok, mi adatto. Comunque, mentre lavorava come ingegnere ai laboratori di telefonia Bell, mentre cercava di indagare cosa potesse interferire con le trasmissioni transatlantiche, usando un'antenna direzionale, ovvero che si riesce a puntare ed è sensibile alla direzione in cui si punta, giustamente direzionale perché segue la direzione, vi prego non disiscrivetevi dopo questa, si accorge che un suo rilevatore, che è un po' differente da quelli moderni, ovvero un computer, ma non queste torri di supercomputer che elaborano decine di migliaia di dati, ma oggetti simili a sismografi, se volete immaginarli, ovvero un foglio millimetrato su cui scrive una penna, ecco, si accorge di un segnale persistente alla lunghezza d'onda di 14,6 metri, ripetuto e dalla direzione ignota. Ma questi radiotelescopi a cui era attaccato una specie di sismografo, in che cosa consistevano e in che cosa tuttora consistono? Beh, grazie mille per la domanda dal pubblico, andiamolo a vedere nelle slide. Ah, no, aspetta, andiamolo a raccontarlo con la voce. Ora, facciamo una bella parentesona di quelle vecchio stampo spacca ossa scheggiadenti. Ora, qui non ci troviamo a parlare degli stessi fotoni delle onde ottiche o raggi X, che sono proietti, o meglio, sono gli stessi fotoni, ma sono estremamente poco energetici. Si racconta, infatti, la favola nella comunità radio, che tutti i fotoni raccolti in un anno dai radiotelescopi non avrebbero l'energia di far sciogliere un fiocco di neve, quindi sono molto meno energetici rispetto ai raggi X o ai raggi A nell'ottico. Possiamo, infatti, considerare la natura duale della luce e considerare il loro comportamento come onde. Onde che, appunto, non vediamo e, con una lunghezza d'onda così ampia, non hanno effetto sul nostro corpo, attraversandoci senza problema. Ecco, caso mai vi sarà capitato quando si entra in una galleria che la radio non prende. Oggetti che cominciano, infatti, ad avere delle dimensioni paragonabili alle dimensioni delle onde possono fermarle. Noi, in realtà, proprio non ce ne accorgiamo, siano troppo piccoli per le onde radio. Il problema quale diventa? Che non possiamo utilizzare telescopi, nel senso classico del termine. Uno specchio, anche se di 10 metri, non riflette quei fotoni, appunto perché stiamo sfruttando la natura ondulatoria, cosa che, invece, gli specchi non fanno. Usiamo, invece, il movimento degli elettroni all'interno dei metalli. Quando gli elettroni, dentro un conduttore, quindi banalmente metallo, sono colpiti da un'onda elettromagnetica, e questa è indirizzata lungo la stessa direzione del conduttore, cioè lo colpisce parallelamente, emette in moto gli elettroni che si trovano quasi liberamente nel mezzo, nel mezzo metallico, che possiamo considerare come un'asta di metallo, per intenderci. E che cosa accade? Che appunto si genera un campo elettromagnetico, nello stesso conduttore, che noi possiamo registrare come corrente elettrica, corrente che poi trasformiamo in voltaggio, e segnale elettrico. Ovviamente lo moltiplichiamo un pochino, perché è un po' bassa come ampiezza, e ovviamente più sarà intensa la radiazione, più avremo un segnale maggiore. La cosa che ci serve è quindi riuscire a far oscillare gli elettroni colpiti dalla radiazione. E per questo ci bastano degli oggetti molto banali, quali ad esempio delle forbici dalla punta arrotondata, dei fil di ferro, dei laccetti, ed eccoci qua, ad alta tac. Infatti, diciamo che anche solo del fil di ferro, disposto a una certa distanza l'uno dall'altro, se poi collegato ad un sensore che converte quel segnale in segnale elettrico, allora avete costruito un grezzo radiotelescopio, diciamo proprio molto banalmente. E la risposta potrebbe essere dal pubblico. Ma scusa, io ho presente i paraboloni grossi, così giganteschi, che si muovono lentamente, e sono veramente grossi, e si vedono nei film, e sono grossi, grossi più grossi. Allora, sì, quelli che vedete sono pure, sono i radiotelescopi paraboloni, li chiameremo così. Però il principio è lo stesso. A me, se un'onda ha le creste, cioè la parte alta, come le creste del mare, a 50 cm di distanza l'una dall'altra, io devo porre i fili, il mio conduttore, a quella distanza, l'uno dall'altro, per registrare la radiazione. Non mi interessa, e non interessa nemmeno alla radiazione, se io nel mezzo ho qualcosa. Infatti, se andate a vedere i radiotelescopi, che lavorano alle lunghezze d'onda maggiori, sono bucherellate, o anzi, nelle parti più esterne, mostrano una parte cava, in cui i fili di ferro sono collegati gli uni agli altri, ma sono vuoti. A queste lunghezze d'onda, e queste energie minori, infatti, ciò che arriva non risente di un'imperfezione nella parabola. Su questi telescopi paraboloni, o paraboloidi, per dirlo un pochino meglio, ci si può anche camminare. Ci sono infatti immagini di diversi tecnici, che stanno ragionando su come aggiustare un ricevitore, e sono in piedi sull'antenna, che osservano proprio tranquilli, tranquilli, loro osservano i ricevitori che devono aggiustare, modificare questo, modificare quell'altro, mentre più si va verso lunghezze d'onda minori, ovvero allunghiamo, appunto, avviciniamo le creste d'onda, allora le imperfezioni diventano sempre più piccole, quindi sempre più difficile modellare il ferro, affinché non si deformi. Pensate quindi costruire una parabola di oltre 50 metri di diametro potrebbe effettivamente diventare una sfida niente male, se deve essere praticamente perfetta ovunque. Ma torniamo a Jansky, il quale pensava fosse il Sole che emettesse la radiazione che lui aveva osservato a 14,6 metri, che intersecasse il campo di vista dell'antenna e fece quindi delle verifiche, però si accorse che la sorgente non seguiva le 24 ore, ma coincideva invece con un tempo di 23 ore e 56 minuti, leggermente diverso e in particolare questo tempo, 23 ore e 56 minuti, coincide con il tempo siderale, ovvero il tempo che impiega una stella a tornare in quella esatta posizione di cielo. Noi siamo abituati al tempo solare, ovvero la rotazione della Terra su se stessa, però c'è un lieve ritardo nel cielo dovuto al fatto che ruotiamo attorno al Sole. Infinitesimale, ovviamente si parla di 4 minuti, se consideriamo tempi di ore non ce ne accorgiamo. Se invece consideriamo tempi di migliaia di anni, allora potremmo osservare in cielo che le stelle si spostano. Questo per il movimento della Terra, quindi appunto attorno al Sole. Quindi si considera molto brevemente, ovviamente non è questa la definizione più corretta, però si considera il tempo siderale come il tempo che impiega la Terra a compiere un giro rispetto alle stelle. Quindi appunto prima che una stella torni in quella posizione di cielo. E infatti di solito si utilizza il tempo siderale per le osservazioni celesti. Diciamo che è più preciso. Utilizzo quella posizione in quell'ora in modo tale che poi la ritrovo la sera dopo. Jansky, parlando con il suo collega Skellet, questi gli disse a zii, sì, ovviamente anche loro romani, guarda che quello si tratta di tempo siderale, non è collegata al Sole o a qualcosa di terrestre. Quello che stai misurando, ma lo devi cercare tra le stelle. Quindi, comparando le sue osservazioni con le mappe ottiche, si rese conto che la radiazione diventava importante e cresceva ogni volta che il suo radiotelescopio primordiale puntava esattamente nella costellazione del Sagittario. In particolare nella stessa parte dove passa la Via Lattea e coincide proprio con il centro della nostra galassia. E, piccolo spoiler, stava proprio osservando l'emissione che proviene dalle zone del buco nero centrale della nostra galassia, nominato poi successivamente Sagittario A-star. Sagittarius, vabbè, se volessimo essere proprio precisi, precisi, parlare un po' in latino. Diciamo che fece poi l'annuncio della sua scoperta a Washington DC nel 1933, nell'aprile del 1933, e con quello possiamo dire che la radioastronomia nacque ufficialmente. Jansky venne però spostato dall'azienda Bell, anche perché comunque non aveva trovato cosa influenzasse le trasmissioni transatlantiche e quindi decise di riassegnarlo. A prendere le sue vesti fu Groth Reber, che secondo me ho pronunciato male, che, ispirato dai lavori di Jansky, costruì un paraboloide di nove metri di diametro nel suo cortile. Ovvio, no? Cosa fai sabato pomeriggio? Tagli l'erba e costruissi un oggetto enorme al posto di sistemare, non so, un vaso di petunie. Io non lo so, cioè... Allora, sono parte un pochino della comunità astronomica e astrofisica? No, ok, allora li capisco, sì, ok. Ci sto. Comunque, partì con uno studio osservando in cielo quali potevano essere le sorgenti di radiazione delle onde radio. Solo però, negli anni 40, si misurarono le prime onde radio con una potenza importante, anche dovuto al miglioramento, appunto, degli strumenti. E, appunto, le prime radio sorgenti importanti provenienti dal cielo. Il bello è che erano dati rilevati durante tempo di guerra, quindi secretati. Segnali che erano stati ottenuti da diversi ricercatori separatamente, infatti, tutte le varie impostazioni di detection di onde radio dovute ai radar, anche sottomarini probabilmente no, però a tutte queste varie impostazioni separate, ma, essendo in tempo di guerra, non se ne accorsero soltanto dopo che, quando i documenti vennero secretati. Quindi, varie detection tutte contemporanee non potevano essere confrontate, diciamo, nella comunità astronomica fino a quando la guerra non fu finita. Quindi, se ne accorsero soltanto successivamente che tutti avevano osservato quelle sorgenti o comunque gran parte delle persone, sempre in quegli anni qualcuno suggerì che non si potesse continuare a costruire e a creare parabole sempre più grosse, ma invece usare parabole più piccole che all'unisono lavorano insieme come se fosse un unico grande telescopio. Nasce e viene applicata in quegli anni l'interferometria, ovvero, si disse, se noi stiamo considerando le sorgenti di onde radio come emettitrici di onde, però non continue, ma composte da tantissime sorgenti puntiforme che emettono però tutte assieme, ecco, se io ora registrassi le creste di queste piccolissime sorgenti con un unico grande telescopio grande chilometri, ecco, con questo sistema dell'interferometria, mi è scivolato un attimo la lingua, si dice, beh, a noi basta misurare le creste d'onda della sorgente, non mi interessa se lo faccio con un solo telescopio oppure con 10, 20, 30, 80 in giro per il mondo. Se io avessi, mettiamo, 27, un numero veramente a caso, 27 parabole puntate sulla stessa sorgente, non mi interessa che siano separate, mi interessa solo che siano sulla stessa sorgente e che misurino lo stesso fronte d'onda. però un fronte d'onda colpirà prima da una parte e poi un altro punto essendo, avendo un tratto di strada da fare in più che l'onda deve percorrere sulla Terra che noi chiameremo ritardo geometrico tra appunto un posto e l'altro della postazione se sono larghe anche diversi chilometri c'è un po' di ritardo. Quello, quel ritardo lì fa sì che noi successivamente andremo a inserire un ritardo temporale tra un segnale e un altro dei paraboloidi che stanno puntando nella stessa direzione in modo che poi quando vado a prendere i dati ci aggiungo una piccola correzione questo appunto ritardo temporale come se shiftassi un pochino tutti i dati cioè li spostassi e mi permette magicamente ovviamente tra 800 virgolette di vedere la sorgente in cielo se no è come se stessi prendendo due foto dello stesso oggetto una di notte e una di giorno e praticamente non riconosco nulla non riesco a ricostruire la mia immagine sono presi momenti differenti e quindi si fa questa piccola correzione chiamata appunto successivamente aggiustando con un po' di matematica quindi con l'interferometria è come se stessi mimando un enorme telescopio secondo me però chi l'ha inviato qua proprio speculazione mia chi ha pensato all'interferometria era uno che aveva voglia di costruirsi un proprio radiotelescopio però non aveva trovato i non i soldi non aveva trovato mega paraboloni quindi ha detto ma se io pensassi di fare tanti piccolini a casa me li metto in giardino sai costruisco questa cosa e la punto in cielo riesco a vedere qualcosa di bello secondo me si secondo me è cominciata così diciamo in parte quindi noi stiamo mimando invece questo enorme telescopio in particolare se noi vogliamo vedere sorgenti estremamente piccole o lontane noi vogliamo avere una risoluzione angolare molto superiore al paraboloide singolo il quale però ha il grandissimo vantaggio di vedere sorgenti estese in cielo un interferometro infatti non è sensibile alle grandi scale angolari quindi per vedere una sorgente estesa in cielo mettiamo una nebulosa vicino a noi che in cielo risulta essere gigantesca non ci riesce un interferometro ha bisogno di diversi puntamenti costruire un mosaico di immagini che poi andrà a comporre e quindi tempo di osservazione molti più dati problema che invece con il paraboloide singolo non abbiamo ci dà un'idea generale appunto costruire prende direttamente questa immagine e siamo già belle che a posto attualmente di interferometri ne abbiamo diversi primo di questi è EVLA ovvero E-V-L-A e siete pronti al nome ecco sedetevi per questo grandioso nome ovvero Extended Very Large Array ovvero array quindi serie di telescopi esteso molto grande ecco io farei un applauso a questi astronomi che hanno inventato questo nome perché non lo so fa sempre ridere un telescopio una serie di telescopi esteso molto grande vabbè ok bene così allora si trova in New Mexico e lavora nelle lunghezze d'onda del centimetro mentre l'altro grande array è ALMA ovvero Atacama Large Millimeter Array praticamente Atacama sta per il deserto di Atacama in Cile dove si trova anche qua Large Array quindi array molto grande che lavora nel millimetrico un insieme di 64 antenne del diametro di 16 metri che lavorano assieme arrivando alle frequenze maggiori e cioè al millimetro e qui invece le antenne sono sacre come dicevo prima stiamo arrivando alle lunghezze d'onda sempre più piccole bisogna stare attenti e neanche a guardarle e si trovano a 5000 metri di altezza a differenza di VLA che si trova soltanto a 2000 metri sì ma zecco in effetti lavorare a 5000 metri o a 2000 metri soprattutto a 5000 metri non hai per niente nessun problema diciamo questo è dovuto sempre a quel problema ovvero l'atmosfera ci dà fastidio noi astronomi ci dà fastidio l'atmosfera siamo la utilizziamo respiriamo anche noi però ci dà fastidio vogliamo vedere la radiazione noi vogliamo vedere tutto quello che gli oggetti celesti hanno da dirci mica fermarci a un certo punto perché il vapore acqua non ti permette l'osservazione cioè io voglio vedere oppure l'atmosfera distorce l'onda che arriva e quindi si cerca di andare sempre più in alto per riuscire a vedere meglio e avere una colonna d'aria quindi sopra di noi sempre minore in modo che l'immagine non sia distorta ALMA costituisce il fiore all'occhiello di quella che è la ricerca nelle onde radio e ha aperto la finestra nel millimetrico un campo di ricerca che ci ha permesso di andare a vedere ad esempio delle emissioni prima solo teorizzate nel gas delle galassie nei cluster di galassie questi ammassi di galassie nelle supernove oppure i getti che partono dai buchi neri di oltre 100 milioni di anni fa che hanno un'emissione osservabile solo alle frequenze raggiungibili d'ALMA però ora torniamo alla storia che in questa puntata ci stiamo un po' perci stiamo prendendo un pochino a parlare dei radiotelescopi qua vi devo dare un po' un po' di ciccia parliamo di quella che è una delle più grandi scoperte della radioastronomia ovvero gli alieni ora la vostra attenzione secondo me dopo nei grafici vedrò proprio qua il picco a 22-23 minuti che appunto sale ecco tutto è cominciato in una fusa notte di agosto mentre Jocelyn Bell dottoranda al nuovo Interplanetary Scintillation Array qua mi arriverà successivamente uno scappellotto dalla Rita costruito a Cambridge e faceva uno dei mestieri più importanti e noiosi allo stesso tempo ovvero controllare e analizzare i dati ottenuti i giorni precedenti e voi vedo già a pensare ah ora si siede al pc una bella tazza di tè fumante e fa partire i software e diciamo che era un po' diverso nel 67 ovvero l'attrezzatura era l'equivalente di sismografi moderni quindi chilometri chilometri di fogli su cui erano segnate delle fluttuazioni rappresentanti il segnale registrato quindi si inforca gli occhiali si siede spero due o tre tazze di caffè e comincia a indagare sulla carta che ha davanti su cui lasceremo un po' di segreto del mestiere perché effettivamente non so come si analizzassero i dati all'epoca però dopo diversi giorni in cui analizza quei fogli si accorge di una cosa ovvero un segnale non trascurabile che arriva da una parte di cielo da cui già precedentemente era stato escluso i rumori delle sorgenti che potevano essere di origine terrestre e già qui si accende una lampadina poi nel novembre del 67 dopo aver catalogato tutti i segnali presenta una serie di segnali che si ripete ogni 1.33 secondi nella stessa zona di cielo dove non era mai stato osservato prima un oggetto astronomico ed è qui che per la prima volta si pensa alla vita extraterrestre come se qualcuno volesse comunicare con noi inviando un segnale pulsato un messaggio che si ripete come un orologio svizzero ecco dopo la conferma da un altro telescopio si ebbe la certezza che il segnale esisteva non era un problema solo di quello strumento quindi Bell e Dewish il professore guardandosi in faccia si rese conto che non potevano aver trovato vita intelligente o comunque era estremamente improbabile mettiamola così ma di sicuro qualcosa di mai osservato avevano visto per la prima volta e considerato che comunque girava per la loro testa l'idea di aver comunicato con degli alieni e avendo scoperto una nuova sorgente avevano il diritto di chiamarla per la prima volta e perché non scherzarci su un pochino perché non chiamarla LGM ovvero Little Green Man piccoli o mini verdi diciamo che una volta poi scoperte le sorgenti simili a questa questa ipotesi dei piccoli o mini verdi abbastanza fantasiosa venne abbandonata però per anni le sorgenti simili a quella vennero chiamate appunto LGM1 LGM2 eccetera eccetera insomma un sacco di o mini verdi in giro per il cielo ora invece i piccoli o mini verdi sono chiamati pulsar ovvero resti di stelle di grande massa che ruotano velocissime su se stesse rilasciando radiazione che noi poi registriamo e appunto lo fanno con questa periodicità che per la prima volta aveva colpito la Bell ma ci stiamo dimenticando di uno dei motivi per cui la radioastronomia è più utilizzata per cui il mio professore mi avrebbe già redarguito ma che paroloni veramente che utilizzo oggi ovvero la riga a 21 cm lasciatemi spiegare un pochino peggio l'idrogeno è composto da un protone e da un elettrone che sono delle particelle subatomiche ed è l'elemento più diffuso nell'universo l'elettrone mentre ruota attorno al protone e da tantissimi virgoletti ovviamente non andatelo a dire in giro ruota anche su se stesso quindi ci immaginiamo un asse che passa per l'elettrone e un asse che passa per il protone a causa di interazioni elettromagnetiche con altri atomi di idrogeno può capitare che da una situazione in cui i due assi sono paralleli e con lo stesso verso mettiamo ad esempio verso l'alto l'elettrone può cambiare il verso dell'asse arrivando ad essere antiparalleli quindi da una situazione in cui entrambi puntavano verso l'alto ora ne abbiamo il protone che punta verso l'alto e l'elettrone che punta verso il basso veramente prendetele con le pinze perché sennò i quantistici vengono a casa e mi fanno del male vabbè viva l'astronomia per noi gli elettroni ruotano ora con questo cambio diverso avviene che l'atomo libera una particella di luce che chiameremo fotone per amore della scienza da alla lunghezza d'onda proprio di 21 cm e perché è così importante beh innanzitutto l'idrogeno neutro con dove si trova abbiamo indicazione di dove si stanno formando le stelle le quali nascono proprio da gigantesche nubi di idrogeno ed elio che stanno collassando ovvero si stanno stringendo e quindi avere un'idea se la nostra galassia è viva ovvero c'è l'idrogeno quindi fa stelle quindi si sta evolvendo oppure no nel caso manchi questo galassia ci dà una prima indicazione del tipo di galassia che stiamo osservando ma non solo questo le galassie come la nostra ovvero immaginatevi un disco ruotante come un frisbee se noi abbiamo un tracciante ovvero qualcosa che ci permette di individuare la rotazione possiamo capire come gira la galassia sapere la sua forma sapere la forma delle galassie come la nostra e sapere se ruotano e qual è questo tracciante se non lui sua mastosità idrogeno e noi grazie ai radiotelescopi riusciamo a vedere come si distribuisce il gas nella galassia e nelle altre ora in realtà riusciamo ad andare a lunghezze d'onda ancora inferiori andando a vedere ad esempio la molecola di ossido di carbonio che mi traccia con ancora più precisione quelle che sono le zone di formazione stellare la cosa però impressionante di queste immagini che metteremo sempre tra virgolette perché non sono vere e proprie immagini sono ricostruzioni di quella che è la radiazione viste a 21 cm quindi nell'idrogeno è che sono un po' bitorzolute ovvero con dei buchi qui e là e che cosa è successo qui grazie della domanda dal pubblico visto che l'idrogeno e visto che l'idrogeno neutro non sopravvive alle alte temperature vediamo questi buchi sferici in corrispondenza delle stelle massicce che sono nate e morte come supernove nella stessa nube da cui si sono formate quindi sono andate durante l'esplosione a scaldare l'idrogeno che quindi non emetterà più a quella lunghezza d'onda facendolo quindi sparire dalle cartine a 21 cm inoltre con la radioastronomia si aprono un'infinità di finestre su cui oggetti che prima non si immaginava nemmeno come le radiogalassie racchiuse dentro l'ombrello degli AGN radiolaud ovvero che emettono molta della radiazione nelle onde radio ovvero quelle emissioni che provengono dal centro delle galassie e si estendono per diversi centinaia di migliaia di anni luce che vanno a creare dei veri e propri lobby nelle galassie provenienti da getti di particelle accelerate quasi alla velocità della luce che si propagano appunto decelerando e scontrandosi le une con le altre emettono oltre che nei raggi gamma anche nelle radio permettendo quindi di osservare una galassia come che è quasi un puntino nell'ottico noi invece vediamo questa estensione di questi getti che si propagano nello spazio partendo dal motore centrale ovvero tutto l'ecosistema attorno al buco nero centrale diventando appunto degli oggetti giganteschi rispetto alla sola galassia che vista nell'ottico risulta essere un puntino ma parliamo anche dell'attualità e del futuro della radioastronomia le nuove frontiere come ad esempio l'OFAR oppure il consorzio Event Horizon Telescope che forse ricorderete per episodi come la foto di M87 che ha un pochino rivoluzionato la fisica nel 2019 oppure il futuro dell'interferometria ovvero SCA ci permettono e permetteranno di aprire una nuova frontiera nel radio ma vediamoli un po' meglio partiamo dall'OFAR dell'attualità partiamo da quello che c'è attualmente che è già in funzione e che pure a Bologna a breve dovrebbero aprire un nuovo centro allora il mio primo incontro con questo radiotelescopio è stato stranamente a lezione strano vero cioè come studente non capita quasi mai la prima foto che ho visto di LofAR è stata la distribuzione delle antenne in Europa e fino a qui tutto normale la seconda è stata la foto di una pecora sotto una delle antenne e già qui in effetti mi sarei dovuto fare qualche domanda partiamo dall'inizio la sigla sta per Low Frequency Array ed è composto da oltre 20.000 antenne in più di 50 stazioni ma risulta essere uno degli array meno appariscenti e tuttora esistenti infatti sono antenne di fibra ottica alte poco più di 2 metri appoggiate a terra attraverso 4 piedi oppure con altre diverse apparecchiature con altri sistemi e quindi alcune messe in un prato tipo in Olanda o in Inghilterra sotto ci lasciano pascolare liberamente le pecore una sorta di radioastronomia green antenne di per sé che non sono estremamente complesse appunto sono questi piedi di o plastico oppure fibra immagino quello che però diventa complesso sono diventa l'elettronica infatti sono fatte interamente di fibra ottica e quindi tutto computer l'analisi dati quindi si tratta di montagne e montagne di dati da analizzare tutti assieme le stazioni coprono un'area di circa un chilometro quadrato anche se lievemente meno ed è il campo di prova per sca che invece vedremo dopo diciamo che ci permette questo array di vedere le lunghezze d'onda tra i 2 e i 20 metri una banda che per anni è stata inaccessibile agli astrofisici con queste possiamo vedere ad esempio le radiazioni che facciamo risalire all'incontro di ammassi di galassie che producono shock nel gas circostante riaccelerando gli elettroni che poi emettono proprio le lunghezze d'onda dove stiamo guardando in questo in particolare vi allego due articoli di media in-off molto interessanti sull'OFAR e sulle ultime scoperte uno dei quali proprio fa un riassunto delle ultime 4,4 milioni di sorgenti scoperte con l'ultima data release così ve le potete leggere io le ho viste molto interessanti una parla proprio di un ammasso di galassie e l'altra invece dell'ultima data release che ha aperto il cielo andando a guardare proprio con in tutto il cielo le varie sorgenti radio presenti quindi molto interessanti però parliamo adesso anche dell'altro protagonista futuro nel mondo radioastronomico ovvero SCA SCA sta per Square Kilometers Array non penso di averlo pronunciato bene però ormai mi conoscete sarà circa 100 volte più sensibile negli array di telescopi tuttora a disposizione e ci potrà permettere di entrare nel regime dei nanogianschi quindi si va a 10 alla meno 9 quindi 0,90 e poi un 1 a vedere quelle che sono le sorgenti più deboli presenti nell'universo le sedi dovrebbero essere divise tra Australia e Sudafrica e avrà un'apertura ovvero un'area di operazione superiore al chilometro quadrato quindi immaginate queste parabole gigantesche che funzionano come abbiamo già visto come un unico grande telescopio solo che invece di essere nella stessa zona sono incontinenti diversi io sto pensando a tutta la potenza di calcolo di cui avremo bisogno e per analizzare soprattutto questi dati immaginate solo che quanto ci potrà dare SCA però dovrebbe terminare la seconda fase quindi ormai la fase in cui si va a finire la costruzione in cui si hanno tutti via libera del progetto quindi finire la fase 2 nel 2025 anche se forse un po' con il covid i tempi si sono un pochetto allungati e qui ritorna invece il discorso sui dati giganteschi dell'astronomia e della radioastronomia che in questo campo comanda a livello di dati si stima che al giorno si possa arrivare ad avere oltre un exabyte dalle osservazioni di SCA e questo vorrebbe dire che se avete un hard disk da un tera a casa ad esempio per il backup del pc o volete appunto pulire fare un attimo di pulizia ecco di quegli hard disk venisse servirebbero oltre un milione per contenere tutti i dati di SCA in un solo giorno quindi una potenza impressionante ovviamente aprirà un nuovo una nuova finestra una nuova nuova potenza nuovi dati che non abbiamo mai visto però poi trattare quei dati sarà una cosa non da poco diciamo che spero si sia già pensato a come trattare quei dati e con questa piccola chicca finisce la puntata possiamo dire complementare a quella all'astronomia dei raggi X che viaggia nello spazio con telescopi sempre più estremi mentre la radioastronomia dall'altra parte si sta indirizzando a costruire un telescopio grande come l'intero pianeta cercando di guardare cosa ci nasconde l'universo queste due puntate sugli estremi dello spettro elettromagnetico volevano essere una piccola postilla quello che è ora l'astronomia e che ci dovrebbe insegnare molto ovvero i dati solo in radio o solo in X ci dicono qualcosa su ciò che ci circonda basti pensare all'astronomia a raggi X che ci fa vedere appunto i dischi delle supernove che stanno esplodendo come abbiamo parlato della nebulosa del granchio la supernova che esplosa mentre qua ad esempio possiamo vedere le stelle di neutroni le pulsa che ruotano molto velocemente però se noi componiamo queste informazioni componiamo le informazioni nell'ottico nel radio e nell'X riusciamo ad avere uno sguardo completo e riusciamo a vedere tutti gli oggetti e a capire come si sono formati e come si evolveranno la collaborazione tra queste bande della luce e il loro studio è ciò che effettivamente ci fa proseguire nello studio dell'universo quindi astronomia multimessaggera non solo una banda che tuttora ad esempio astronomia nera GX o radioastronomia ma una composizione di queste ci dà uno sguardo completo sull'universo bene io anche per oggi ho finito vi lascio liberi andate a festeggiare se la state ascoltando lunedì se no se la state ascoltando successivamente comunque godetevi l'ascolto della puntata spero vi sia piaciuta noi ci vediamo la settimana prossima se questa puntata ovviamente vi è piaciuta mettete like condividetela con chi volete noi ci vediamo la settimana prossima io vi invito sempre ad andare sul sito del planetario a vedere quelle che sono le nostre attività e ci vediamo prossimamente o al planetario oppure ci sentiamo settimana prossima ciao ciao